Sono Sepi Burgio, ho 27 anni, studio il pianoforte da quando ho quattro anni, laureato in piano classico, appassionato in musica moderna, tutt'oggi alterno l'attività didattica all'attività concertistica. Quando suono il pianoforte una delle prime cose a cui sto attento è la risposta al tocco e la qualità della meccanica. Sicuramente la Yamaha con la nuova Grand Touch, il lavoro sintetico, restituisce ancora più naturalezza al tocco e avvicina questa meccanica ai veri piani acustici. La nuova meccanica Grand Touch Yamaha sicuramente rappresenta un notevole passo in avanti rispetto al passato perché restituisce all'esecutore ancora più feeling, soprattutto nelle tecniche più complicate come ad esempio quella del ribattuto. Soprattutto anche nella trasmissione di dinamica che risulta essere molto più lineare e più fedele. Tutto questo grazie all'enorme esperienza che Yamaha ha anche nel campo della produzione di piani acustici dai quali sicuramente ha tratto spunto per la produzione dei piani digitali. Un altro elemento importante di questo strumento è la presenza di due suoni bellissimi che sono lo Yamaha CFX e il Bosendorfer Imperial. Suoni stupendi, diversi e complementari. Personalmente lo Yamaha lo preferisco per i repertori più moderni perché ha molta più dinamica ed è molto più aggressivo mentre il Bosendorfer lo preferisco per i repertori più classici perché ha un suono più caldo e più avvolgente.